Grande partecipazione in cattedrale ad Arezzo alla Santa Messa preseduta da Monsignor Riccardo Fontana per la solennità di tutti i Santi. Il presule durante l'omelia ha posto l'accento sulla sicurezza che il cristiano ha della salvezza portata da Gesù Cristo, che supera l'effimero e le difficoltà del mondo in cui viviamo. Pasqua ad ogni Santi, così per secoli si è chiamata a Roma il giorno di oggi, a partire da quel nono secolo in cui ci si rese conto che occorreva far festa a Cristo vittorioso nella storia dei Suoi Santi. Siamo chiamati a guardare oltre l'effimero, al di là delle cose che passano. Questa storia che noi viviamo non è quella definitiva. Si è insinuato come un verme sottile, quasi a far credere alla gente che o sei soddisfatto ora, o hai ottenuto ora tutto quello che vuoi, oppure la tua vita non conta. Ci siamo limitati, tagliati via il cielo Grazie. 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 Grazie.